Dopo il festival di Sanremo, Achille Lauro è ovunque. Anche al compleanno di Silvia Blasi, la sorella di Ilari Blasi, che ha celebrato i suoi 40 anni a Roma con una festa in costume. E la sorella Ilari, la conduttrice di Mediaset, si è presentata al party travestita proprio da Achille Lauro, con tanto di tatuaggi in faccia perfettamente riprodotti, accompagnata dal marito, Francesco Totti, nei panni di Vasco Rossi. E non è certo stato il pupone a far scalpore. Già, perché Ilari Blasi si è travestita proprio come Achille Lauro alla prima serata all'Ariston, quando per cantare me ne frego si mostrò con quella tutina effetto trasparenza che è rimasta in testa un po' a tutti. E quella tutina, aderentissima e scollatissima, ha creato non pochi, bollenti, imbarazzi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.